Scadenze, obiettivi, scenari ammessi. L'approvazione da parte di Venezia dello schema di convenzione tra provincia di Belluno e regione Veneto per l'avvio del progetto per il treno delle Dolomiti disegna le tappe decisionali del percorso per l'eventuale collegamento ferroviario Calalzo-Cortina. Binari che potrebbero anche non essere mai posati. Lo schema di convenzione, infatti, prevede anche l'opzione zero, ovvero la non realizzazione della ferrovia, annoverato come una delle quattro possibilità sul tavolo insieme al percorso per la Val d'Anziei, quello per la Valle del Boite e quello proposto dai sindaci che collegherebbe Auronzo a San Vito. Come e quando si deciderà? La strada è tracciata al netto di proroghe non prevedibili in questo momento. Entro ottobre la sottoscrizione del contratto con il soggetto che dovrà predisporre lo studio di infattibilità finanziato dal Fondo Comuni Confinanti con 200.000 euro, soldi rimasti bloccati per due anni a causa di un mancato accordo tra provincia e regione sul loro utilizzo. Poi ci saranno tre obiettivi da centrare. Entro giugno 2020 andrà prontata l'analisi trasportistica con la definizione degli scenari legati alla mobilità nel bellunese. Entro gennaio 2021 la predisposizione di un modello di esercizio del servizio ferroviario affiancata da un confronto con altre modalità di trasporto pubblico e privato. Ultima scadenza fissata per giugno 2021 quando dovrà essere pronta una relazione di sintesi sulla valutazione e l'impatto delle quattro possibilità analizzate. Per ciascuna delle tre opzioni che prevedono una realizzazione della ferrovia potrebbe servire poco meno di un miliardo di euro. L'idea del collegamento ferroviario Calalzo-Cortina-Alto-Adige, oggetto di un protocollo d'intesa tra Veneto e provincia di Bolzano, firmato nel febbraio 2016, si è sviluppata anche come sogno corollare all'assegnazione dei mondiali di sci del 2021. Un evento che ha avviato il piano ANAS che prevede anche quattro varianti stradali in Valle del Boite che non saranno pronte per il grande evento ma influiranno, forse, sulle valutazioni relative alla ferrovia. ANAS, peraltro, fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato. La stazione di Calalzo sarà modernata con un intervento già programmato, mentre per conoscere le sorti del treno delle Odolomiti potrebbero servire un paio d'anni.